Lo sport ha formato milioni di persone nel migliore dei modi. Educare i ragazzi attraverso lo sport è oggi più che mai la nuova frontiera. E proprio per condividere l'importanza di questi valori, l'1 e il 2 giugno a Cassano d'Adda si celebrerà la festa dello sport. Due giornate ricche di spunti per grandi e piccini. Perché lo sport è un diritto, non un privilegio. Noi non mancheremo. E voi? Noi non mancheremo.